secondo voi lo spirito santo parla alleluia ha già parlato lo spirito santo è una persona e noi dobbiamo avere sempre le orecchie bene aperte per ascoltare la sua voce perché la voce dello spirito santo è una voce inequivocabile quando parla al nostro cuore amen lunedì sera ho condiviso con coloro che erano qui del gruppo preghiera una parola e ho detto loro carmelo era presente mimmo coloro che erano presenti si ricordano che ho detto forse qualche volta predicherò questo messaggio però il signore ieri mattina ha cambiato il mio messaggio di stasera e mi ha detto perché qualche volta e non domani sera e quindi io voglio ubbidire la voce del signore lo spirito santo ha confermato già la parola amen noi sappiamo perché la parola di dio ci conferma che quando non c'è visione profetica un popolo è sfrenato proverbi capitolo 29 verso 18 quando non c'è visione profetica un popolo è sfrenato ma gloria a dio e grazie a dio perché noi abbiamo una visione profetica il signore ha parlato già alla generazione precedente ma sta parlando ancora più con forza a questa generazione e sta dicendo messina è mia messina mi appartiene messina è dell'eterno amen abbiamo noi questa visione voi credete a questa profezia alleluia abbiamo cantato confiderò in te la promessa si adempirà tu sei fedele l'abbiamo cantato tutti con convinzione può darsi che lo hanno cantato anche coloro che ancora non sono convinti pienamente che la promessa di dio per questa città si adempirà ma io prego che lo spirito santo faccia breccia nel nostro cuore affinché forse anche alla fine di questo messaggio quelle parole che forse hai cantato con poca convinzione invece diventino la convinzione del tuo cuore la promessa si adempirà colui che ha aperto il mare colui che ha dato la vista ai ciechi colui che ha trasformato l'acqua in vino è potente da fare questo e molto di più noi è vero noi non camminiamo per visione ma camminiamo per fede amen ma questo non significa questo significa che noi camminiamo da credenti non camminiamo da veggenti ma questo significa che noi camminiamo attraverso la fede e la fede nelle promesse di dio e quindi se dio ci ha detto e ha parlato in maniera inequivocabile lo spirito santo ha parlato al nostro cuore e sempre di più conferma la sua parola noi siamo coloro che camminano per fede perché abbiamo creduto in qualcosa che ancora i nostri occhi forse non hanno visto certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono vuoi fare tu come don maso vuoi mettere il dito nei fori prima di credere o vuoi essere ancora più beato queste sono state le parole di gesù tu hai creduto don maso ma più beati di te saranno coloro che senza credere senza vedere crederanno noi abbiamo creduto ecco perché possiamo parlare noi siamo di quelli che crediamo che le promesse di dio quando il signore quando una parola parte dalla bocca dell'eterno essa non torna a lui a vuoto ma essa germoglia frutta e la dimostrazione di qualcosa che ancora forse i nostri occhi materiali non hanno visto ma i nostri cuori l'hanno già percepito i nostri occhi spirituali hanno già visto un cambiamento in questa città allora incominciate a capire la parola di dio nel libro del profeta joele noi siamo di quelli che abbiamo creduto noi siamo di quelli che come come dio ha detto il profeta abbacuc scrivi la visione incidila o me da scudi meglio che resta qualcosa di sicuro e io ti dico che la visione che tu hai inciso nel tuo cuore per certo si avvererà forse qualcuno sta pensando sta tardando ma il signore dice io arrivo al momento opportuno né troppo presto e neanche troppo tardi questa è la promessa che dio ha fatto al nostro cuore e questa è la visione che abbiamo abbracciato in quest'opera e per questa visione noi vogliamo continuare a proclamare la gloria di colui che ce l'ha data io ho cominciato dicendo lo spirito santo parla che lo spirito santo parli al nostro cuore il profeta joele al capitolo 1 racconta la storia di quel periodo ed è molto assimilabile alla storia di messina voglio fare con voi un percorso questa sera per farvi comprendere da dove siamo partiti ma da dove stiamo uscendo e dove stiamo arrivando perché la visione è qualcosa che ti accompagna la visione ha un inizio c'è una promessa poi c'è un inizio e poi c'è una continuazione fino a quando il signore dimostrerà con i fatti che quello che lui ha detto sia vero in questa città e beati coloro che ci hanno creduto fin dall'inizio alleluia dice il profeta joele al capitolo 1 la parola dell'eterno fu che fu rivolta a joele figlio di petuel dite questo o anziani e ascoltato voi tutti abitanti del paese è mai avvenuta una cosa simile ai vostri giorni o ai giorni dei vostri padri raccontatelo ai vostri figli e i vostri figli ai loro figli e i loro figli all'altra generazione fate eco come è stato detto da generazione a generazione che una generazione lo racconti all'altra l'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato la locusta l'avanzo lasciato dalla locusta l'ha mangiato la larva della locusta l'avanzo lasciato dalla larva della locusta l'ha mangiato la la custa divoratrice destatevi ubriachi e piangete gemete voi tutti bevitori di vino per il mosto che vi è stato tolto di bocca poiché una nazione forte senza numero è salita contro il mio paese i suoi denti sono denti di leone e a zanne di leonessa ha devastato la mia vite ha fatto a pezzi il mio come una vergine cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza dalla casa dell'eterno sono scomparse l'oblazione di cibo e la libazione i sacerdoti ministri dell'eterno fanno cordoglio la campagna è devastata il paese in lutto perché il frumento è distrutto il mosto è inaridito e l'olio è venuto meno siate confusi o agricoltori gemete o vignaioli per il frumento e per lozzo perché il raccolto dei campi è perduto la vita è seccata e il fico è inaridito il melograno la palma il melo e tutti gli alberi della campagna sono seccati la gioia è venuta meno tra i figli degli uomini alleluia questo è un tempo di grande carestia questo che il profeta joele sta in maniera molto dettagliata e minuziosa e rivelando ai nostri cuori per farci comprendere quello che stava passando in quel periodo il suo popolo è esattamente da dove noi stiamo venendo quanti hanno sentito dire che messina io dico non è più è io dico era l'ultima città d'italia ma dio ha scelto le cose che non sono per svergogliare per svergognare quelle che sono dio ha scelto gli ultimi per trasformare radicalmente una situazione di una città e farci comprendere che la gloria appartiene a lui e a lui solamente deve essere palese deve essere visibile quello che lui farà in questa città è qualcosa di straordinario perché se messina fosse partita da un tempo invece non di grande carestia ma invece da un tempo di abbondanza chi avrebbe potuto dire che il signore è al lavoro in questa città è necessario è necessario che sia palese a tutti che ogni occhio veda che il signore è colui che domina su ogni cosa a lui dice la parola di dio a lui appartiene la terra a lui appartiene il mondo e i suoi abitanti lui è padrone di ogni cosa e noi che siamo il suo popolo dicevo lunedì come facciamo ad essere poveri noi apparteniamo a un dio che è immensamente ricco ad egli appartiene ogni cosa egli è lì dio dell'abbondanza ma qui il profeta gioele ci sta parlando invece di un periodo di grande carestia come fa un figliuolo di dio a vivere nella carestia quando il suo papà è ricco domandate al figlio del prodigo domandate a chi si allontana dalle vie del signore domandate a chi va via dalla casa paterna a coloro che si sono sviati e allontanati dalla casa del signore lui ha le sue strategie per chiamarci un'altra volta nell'ovile e farci testare e dire perché ti sei allontanato non vedi non vedi che nella tua città nella tua casa nella tua famiglia non c'è più mosto non c'è più vino non c'è più grano non puoi fare più il pane non c'è più olio ma qui il profeta gioele non sta parlando semplicemente di cose materiali sta parlando di qualcosa di spirituale fratelli l'olio è l'olio dell'unzione quando manca in una città o in una comunità o in una famiglia l'olio dell'unzione tu stai vivendo nella povertà quando manca il grano quando non puoi impastare il pane tu stai vivendo senza il pane della vita che è il tuo signore il tuo Gesù quando tu stai vivendo senza il vino tu stai non sei coperto dal sangue di Cristo che ti lava e ti purifica da ogni iniquità una città dove non c'è vino non c'è olio non c'è grano è una città che sta vivendo nella povertà ma chi è più povero di colui che si allontana dalle vie del signore più povero di lui non c'è nessuno già sono poveri coloro che non conoscono il signore ma coloro che lo hanno conosciuto e si allontanano dalle vie del signore sono i più poveri di tutti perché sono vissuti nell'abbondanza ma si sono allontanati dalla via del signore stanno vivendo con un papà potenzialmente nelle ricchezze e invece è come se avessero un conto in banca senza avere la possibilità di andare in banca stessa a poter scambiare questo conto hanno potenzialmente un conto corrente ricchissimo hanno potenzialmente ogni dono che viene dal padre dei lumi hanno potenzialmente vino grano olio ma vivono nella povertà una città che ha deciso di vivere senza il suo dio una città che non fa del suo dio la sua priorità è una città povera e gioele qui la descrive in maniera minuziosa calamità devastazione desolazione povertà tutto quanto che di negativo ci può essere in una città c'era in questo tempo perché era necessario che il popolo di dio si destasse si svegliasse da questo torpore e dicesse signore io voglio ritornare a te perché tu sei colui di cui io ho bisogno e se leggiamo insieme dal verso 13 dove ci eravamo fermati poc'anzi dice cingetevi di sacco e fate cordoglio o sacerdoti ricordatevi che noi siamo un popolo di sacerdoti e re il signore sta parlando con noi ci sta responsabilizzando in questa città sta dicendo sarete voi sarete voi la testa sarete voi coloro che porteranno alla riscossa questa città sarete voi che per primi dovrete cantare giubilare di gioia in una città che io sto trasformando incominci tu a vedere la trasformazione alleluia io ascoltavo dei telegiornali leggevo dei giornali e vedo che c'è una città che è un cantiere aperto molti cantieri hanno già cominciato molti operai sono in giro per la città io vedo potatura scerbatura io vedo illuminazione io vedo asfaltatura di strade gloria a dio per tutto questo ma dopo vedremo che c'è qualcosa di più importante ma intanto incominciamo da questo la parola di dio ci ha insegnato che prima viene il naturale e poi viene lo spirituale e allora il signore ci sta spronando voi sacerdoti gemete ministri dell'altare venite rimanete tutta la notte vestiti di sacco o ministri del mio dio perché l'oblazione di cibo e la libazione sono scomparse dalla casa del vostro dio proclamate un digiuno convocate una solenne assemblea radunate gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa dell'eterno il vostro dio e gridate all'eterno in una sola parola pentitevi siate voi i primi a pentirvi di un comportamento che vi ha portato lontano dalle mie vie ma oggi c'è una conversione un dietro front una conversione di marcia perché questa città sta andando invece dritta verso l'eterno alleluia io sento che c'è un cambiamento in questa città e non parlo semplicemente della nostra comunità proprio ieri mi sentivo con un fratello di un'altra comunità che hanno a cuore esattamente la nostra visione e stanno pregando per messina quindi non siamo soli fratelli quando siamo qui lunedì a pregare dicevo al pastore filippo chissà o quando siamo il sabato mattina in zona nord chissà quanti contemporaneamente stanno facendo la stessa cosa e a volte invece noi ci scoraggiamo perché siamo un piccolo numero ma gloria a dio per questo piccolo numero infuocato perché ben presto altri si accoderanno ma io vi dico beati coloro che ci hanno creduto dall'inizio il tempo è questo fratelli il tempo è questo per crederci perché coloro che credono solo coloro che ne mangeranno i frutti per primi alleluia dice il verso 15 ahimè per quel giorno poiché il giorno dell'eterno è vicino in questo capitolo lo ripete lo ripete per tre volte il giorno dell'eterno è vicino sì verrà come una devastazione dall'onnipotente non è forse il cibo tolto via dai nostri occhi la gioia e l'allegrezza dalla casa del nostro dio i seminari discono sotto le zolle i magazzini sono ridotti a una desolazione i granai cadono in rovina perché il grano è seccato anche il bestiame dice il verso 18 ma andiamo al verso 19 a te diciamo insieme a te stiamo dicendo per tutta la città in questo momento ci stiamo facendo stiamo facendo eco in tutta la città in questo momento è come se tutti gli abitanti di messina in questo preciso momento dicessero a te o eterno io grido perché un fuoco ha divorato i terreni da pascolo e una fiamma ha bruciato tutti gli alberi della campagna anche le bestie dei campi si alzano lo sguardo alzano lo sguardo a te perché i corsi d'acqua sono seccati e il fuoco ha divorato i terreni da pascolo ma a te io grido eterno perché ho compreso che questa situazione è qualcosa che abbiamo procurato noi dobbiamo responsabilizzarci fratelli chi meglio di noi può avere questa responsabilità chi dovrebbe responsabilizzarsi l'altra sera domenica sera c'era un corteo di persone che andavano dietro un traliccio c'era la festa lì al grotte e c'era un popolo così numeroso che andava saranno forse loro può parlare il signore con loro no loro saranno coloro che seguiranno noi quando noi pregheremo per loro il signore sta parlando a noi sta dicendo voi sacerdoti voi ministri dell'altare ma qualcuno mi potrebbe dire ma perché pastore davide proprio noi perché siamo noi a doverci pentire 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 di qualche cosa forse che non abbiamo fatto ma io ti dico esaminiamo noi stessi esaminiamo ognuno di noi la nostra coscienza e diciamo ma forse sarà anche responsabilità mia se messina si trova in questo tempo e quando parlo di mia non intendo di davide forse la chiesa messina forse le comunità messina quanto tempo fratelli quanto tempo perdiamo rancori malumori e quant'altro quanto quanto tempo perdiamo piuttosto che invece fare l'opera che dio vuole che noi compiamo in questa città e invece andiamo dietro fesserie fratelli non facemi fissa forse siamo sciocchini lo dico in maniera un po siamo sciocchini quando perdiamo di vista l'obiettivo di dio quando perdiamo di vista l'obiettivo dell'avanzamento del regno di dio diventiamo permalosi appena ci dicono una parola schizziamo ma se noi abbiamo un obiettivo che è molto più alto e ci blocchiamo per un obiettivo che è molto più basso forse non stiamo guardando in alto forse siamo intoppati perché il nostro sguardo la nostra vista spirituale non è più verso la meta non è più verso quell'alta e superna vocazione a cui dio ci ha chiamati ma stiamo guardando forse più in basso siamo rimasti poveri in questa città perché forse la chiesa ha delle responsabilità e non parlo soltanto della nostra generazione forse a volte dico una parola forte forse a volte abbiamo mitizzato la chiesa della passata generazione ma la situazione a messina è il frutto anche dei decenni precedenti gloria a dio perché c'è stato un movimento meraviglioso un movimento pentecostale evangelico a messina meraviglioso eppure io mi ricordo che frequentavo un'altra chiesa dove in qualche modo eravamo ero io dico ero ma vi posso dire che l'andamento era un po quello e mia sorella lo sa eravamo un po razzisti spirituali noi che frequentavamo le adi ero come razza ariana avete presente la razza ariana guardavamo gli altri sì come fratelli però come come forse fratellastri forse figli della stessa mamma ma non figli dello stesso padre alleluia ma oggi è tempo di andare oltre questa è una responsabilità che forse la chiesa aveva e ancora oggi si sta portando ma il signore ci sta dicendo è tempo di svegliarvi da questo torpore è tempo di destarvi perché io ho degli obiettivi in questa città da raggiungere il signore ancora non ha potuto mantenere la sua promessa che è da tanto tempo che ha fatto perché ancora la chiesa non è pronta una chiesa che supera queste particolarità e queste singolarità diventerà una chiesa pronta ad abbracciare la visione del signore perché il signore ci ha dato una visione che vuole senz'altro portare a compimento ma la chiesa è pronta o qui il profeta gioella sta parlando con i ministri di dio sta parlando con i profeti sta parlando con coloro che hanno delle responsabilità spirituali in questa città non sta parlando con coloro che sono andati dietro un traliccio non sta parlando con coloro che ancora non riescono a distinguere la mano destra dalla mano sinistra ma noi che abbiamo creduto fratelli non facciamo gli sciocchini alleluia ci vorrebbe forse un termine più forte non facciamo gli sciocchini andiamo a guardare in alto dove il signore ci sta aspettando perché ci ha dato una meravigliosa collaborazione vuole essere collaborato dal suo popolo e noi piuttosto che collaborarlo per l'avanzamento del suo regno invece vediamo tempo e ci offendiamo e abbiamo dei malumori e se incontriamo qualcuno da un'altra chiesa io a volte sono stato anche vittima di questo qualcuno mi ha incontrato da un'altra chiesa e si girarono allora io mi chiedo ma se un giorno saremo tutti insieme ma tu che vuoi la vista sul mare ma cosa vuoi tu cosa vuoi più di quello che il signore ti sta dando cosa vuoi un comportamento particolare ecco la razza ariana di cui parlavo prima il signore invece ci invita a dire siete i miei siete il mio popolo siete il greggio del mio pascolo pertanto comportatevi da pecore che seguono il pastore il signore ci sta dando questa responsabilità a Messina e io me la voglio prendere io me la voglio prendere non voglio essere uno di quelli che dico no io questo non lo voglio fare no no io me la voglio prendere questa responsabilità ma il signore prima di toccare il cuore magari di coloro a cui noi stiamo portando in questo periodo la parola dell'evangelo stiamo andando a evangelizzare qualcuno forse piantiamo tende nelle piazze ma il signore mi dice questa parola forse sarebbe opportuno che incominciassimo ad evangelizzare dentro le nostre comunità forse è tempo che dobbiamo incominciare a parlare e a predicare messaggi di evangelizzazione perché prima che noi parliamo agli altri dell'evangelo forse il signore deve toccare il nostro cuore amen siete d'accordo un cuore trasformato dall'amore di dio è un cuore che può amare i suoi fratelli ma se noi non siamo ancora cambiati siamo soltanto dei bronzi risonanti e dei cembali squillanti io non voglio essere così io voglio mettermi in discussione come qui ci dobbiamo mettere in discussione voglio dire signore ma io cosa sto facendo per questa città e cominciamo magari dalla nostra comunità ma io cosa sto facendo per la mia comunità mi sto adoperando affinché tutto vada per il bene o invece sto mettendo paletti davanti agli altri mi faccio cadere mi faccio sdrupare pietre di inciampo forse invece di essere un uomo di pace forse sono un guerrafondaio forse ogni parola che mi viene detta la cambio e il mio cuore si inacerbisce ma poi vogliamo predicare l'evangelo agli altri no il signore sta parlando al nostro cuore e sta dicendo io vi voglio dare questa responsabilità chiesa di messina ma voi mi dovete rappresentare come io sono noi siamo fratelli dei cristiani in quanto tali noi dobbiamo esattamente sviluppare un carattere che a cristo apparteneva il signore era umile di cuore era ubbidiente al padre e faceva tutto quello che vedeva fare al padre noi perché a volte facciamo il contrario noi siamo dei cristiani il signore ci ha insegnato vero a portare la nostra croce dice chi vuole seguirmi chi vuole venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua ma dice poi chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi per il mio amore la perde la ritroverà amen ma io ho letto anche questo passo di scrittura anche sotto un'altra angolazione per qualcuno la croce che dobbiamo portare come un mio collega l'altra volta che mi mandavo un messaggio gli ho chiesto come stava e lui mi ha detto bene però in questo tempo sono stato ho avuto problemi grossi di salute e poi come ultima frase mi ha scritto è che vuoi ognuno dobbiamo portare la nostra croce questa è un'interpretazione sbagliata non è questa la croce che il signore parla l'interpretazione giusta anzi una delle interpretazioni giusta è che il signore ci ha dato la nostra la croce noi dobbiamo portare quella croce affinché quotidianamente possiamo inchiodare il nostro io la nostra carnalità tutto ciò che non gli appartiene ma leggendo questo passo di scrittura il signore mi ha dato anche un'altra chiave di lettura noi portiamo la nostra croce perché siamo cristiani e quando io ho detto che forse qualcuno mi chiederà ma perché pastore davide io devo chiedere perdono a dio in questa città dove io non mi sento che sbagliai niente allora io ti chiedo ma gesù aveva forse sbagliato qualcosa eppure lui ha dato la sua vita per noi dove su una croce allora forse quella croce serve anche per rappresentare esattamente ciò che cristo ha fatto per noi forse noi ci dobbiamo anche addossare delle colpe per gli altri e dobbiamo chiedere perdono al signore affinché noi possiamo intercedere per questa città e quella croce che noi portiamo quotidianamente serve esattamente per identificarci con i messinesi a messina con tutti coloro che l'altra volta andavano dietro un traliccio e io me li guardavo dalla mia veranda sopra e guardavo sotto e dicevo signore perdona loro perché non sanno quello che fanno identificazione con coloro che ancora non hanno conosciuto la via la verità e la vita ma noi che l'abbiamo conosciuta il signore ci dà quella croce affinché in quella croce noi come cristo possiamo trasferire possiamo trasferire anche gli sbagli gli errori che gli altri hanno commesso li possiamo anche trasferire su di noi e come l'apostolo paolo possiamo dire morte in me e vita in voi alleluia chi ha un cuore da fare quello che ho appena detto chi ha un cuore per rappresentare questa città a chi sta a cuore questa città o forse ti interessa soltanto casa tua tu sei salvata tuo marito è salvato i due figli sono salvati ma poi ci sono i tuoi cugini e comincia a pensare no ancora i miei cugini forse è meglio che io e poi i due zii e poi e così via fratelli ma il signore ha promesso che messina sarà salvata non casa tua solamente non il tuo rione ma messina sarà salvata e io voglio credere a una percentuale tonda il cento per cento chi ci crede alleluia gloria a dio dice il capitolo 2 il primo verso suonate la tromba in sion e date allarme sul mio santo monte tremino tutti gli abitanti del paese perché il giorno dell'eterno ecco un'altra volta il giorno dell'eterno è vicino verso 11 l'eterno fa udire la sua voce davanti al suo esercito perché il suo accampamento è molto grande perché potente l'esecutore della sua parola sì ancora una volta il giorno dell'eterno è grande è assai terribile chi potrà sostenerlo ora andiamo al verso 12 perché c'è un cambio di rotta il signore qui ci sta spronando e ci sta mettendo in bocca quello che noi dobbiamo fare anzi quasi quello che noi dobbiamo dire perciò ora dice l'eterno diciamo insieme perciò ora 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 è il momento tornate a me con tutto il vostro cuore con digiuni con piante e con lamenti voglio soltanto ho appuntato dei versi non c'è bisogno che voi li prendete li voglio leggere io secondo cronache 7 14 dice se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia prega cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie io ascolterò dal cielo perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese abbiamo questo dio abbiamo un dio che è longanime abbiamo un dio che è paziente forse la sua pazienza non dura in eterno ma la sua benignità dura in eterno quindi è buono che noi ci pentiamo e che facciamo dietro front lamentazioni 3 al verso 40 dice esaminiamo la nostra condotta come dire mettiamoci in discussione valutiamola e poi torniamo al signore ecco la decisione che dobbiamo fare valutiamo la nostra condotta e torniamo al signore perché egli è un dio misericordioso e sta aspettando che per prima la sua chiesa si penta di un comportamento forse negativo che nel corso di questi ultimi anni ha sviluppato in questa città torniamo al signore perché egli è lento all'ina di grande benignità e misericordioso una decisione prima dobbiamo fare una decisione poi proverbi 28 13 dice chi copre le sue colpe non prospererà ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia quindi è tempo di cambiare decisione è tempo di cambiare condotta è tempo di abbandonare il male se tu hai compreso che c'era forse nella tua vita un comportamento negativo ma io voglio ampliare questo concetto a livello di comunità a livello di chiesa messina chiesa del signore a messina se tu hai compreso che c'era qualcosa di negativo nel tuo operato è tempo di cambiare condotta è tempo di abbandonare il male perché il signore sta aspettando che tu dichiari il tuo peccato che tu dichiari il tuo errore perché quando i tuoi peccati tu confessi egli è fedele giusto da perdonarti e purificarti da ogni iniquità ma se tu copri i tuoi errori come minimizzare davanti al signore il signore dice aspetta la mia promessa si avverirà ma ancora non è tempo ecco perché scrivi la promessa perché essa per certo verrà e non tarderà ma egli conosce i tempi noi dobbiamo soltanto fidarci di quello che il signore vuole fare isaia 55 7 dice lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri si converta egli al signore che avrà pietà di lui al nostro dio che non si stanca di perdonare il nostro dio fratelli non si stanca di perdonare e poi un verso dal nuovo testamento giacomo 4 9 dice affliggetevi fate cordoglio e piangete il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza umiliatevi davanti al signore ed egli vi innalzerà attenzione qui non sta parlando che ci dobbiamo vestire di sacco cospargere il capo di cenere da madira sire dire no no qui sta semplicemente giacomo sta dicendo siate pentiti di un comportamento che sicuramente non ha portato giovamente alla vostra vita se vi volgete indietro piangete per quello che avete fatto fate cordoglio perché il signore asciugherà ogni nostra lacrima il signore cambierà radicalmente le sorti di questa città lo vuoi vedere dove vado a tagliare perché voglio poi arrivare a un concetto che sarà il cuore di questo messaggio dice al verso 18 allora l'eterno si è mossa gelosia capitolo 2 verso 18 allora l'eterno si è mossa gelosia per il suo paese e ha avuto compassione del suo popolo ecco la transizione da un tempo di carestia stiamo arrivando a un pentimento di cuore e adesso il signore si è mossa compassione e sta cambiando radicalmente le sorti di questa città le sorti della meravigliosa messina che noi abitiamo e dice il verso 19 l'eterno risponderà e dirà al suo popolo ecco io vi manderò grano mosto e olio e ne avrete a stazietà e non vi renderò più il vituperio delle nazioni allontanerò da voi l'esercito del nord e lo guiderò in una terra arida e desolata la sua avanguardia verso il mare orientale la sua retroguardia verso il mare occidentale il suo puzzo salirà il suo vidore si leverà perché ha fatto cose grandi non temere o suolo gioisci e rallegrati perché l'eterno ha fatto cose grandi non temete o bestie dei campi perché i terreni da pascolo sono rinverditi perché gli alberi portano il loro frutto il figo e la vite danno tutta la loro ricchezza alleluia abbiamo sentito poco fa il profeta ezechiele disse allora l'eterno mi portò in una grande valle piena di ossa secche e mi disse profetizza su queste ossa possono queste ossa rivivere profetizza su queste ossa e allora profetizzò su quelle ossa e i tendini incominciarono a svilupparsi e poi i muscoli cominciarono a svilupparsi e poi la pelle la carne tutto ciò che un corpo umano fisicamente può avere di sviluppato incominciò a svilupparsi ma poi ci fu un momento in cui la scrittura si interrompe ora voglio fare voglio voglio che sia chiaro un concetto gioite dice quindi o figli di sion e rallegratevi nell'eterno il vostro dio perché vi ha dato la prima pioggia gloria a dio qui parla di prima pioggia l'abbondanza del mosto del grano dell'olio e tutto quello che invece di povero aveva avuto il popolo ora invece diventa una ricchezza tutto ciò che prima non avevano l'eterno si è mossa a compassione vedendo che il suo popolo si era destato si era svegliato da quel torpore e le sorti di questa città incominciano completamente a trasformarsi possono queste ossa rivivere siamo pazzi vero a credere questo può Messina diventare la prima città d'italia siamo folli ma io voglio credere alla follia della predicazione chi ci crede chi è folle da crederci la prima pioggia io vedo già la prima pioggia arrivare a Messina tutto quello che vi ho raccontato poco fa dei telegiornali questa è la prima pioggia e quello che il profeta Ezechiele profetizzò su quelle ossa secche muscoli tendini pelle che si sono riformati quelli fanno parte della prima pioggia dice al verso 24 le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di mosto e di olio così vi compenserò delle annate che hanno divorato la locusta la larva della locusta la locusta divoratrice il bruco il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi e voi mangerete in abbondanza gloria a dio voi mangerete in abbondanza e sarete saziati e loterete il nome dell'eterno il vostro dio che per voi ha fatto meraviglie e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna gloria a dio il signore sgriderà il divoratore di questa città e tutto ciò che prima non attecchiva ora miracolosamente incomincia a dare il suo frutto il seme che la chiesa ha seminato forse anche 50 anni fa oggi sta incominciando a portare il suo frutto perché il popolo di dio in questa città non sarà più deriso noi che ci siamo pentiti davanti al signore e abbiamo riconosciuto che è necessario che il signore intervenga in questa città a trasformare completamente gli eventi non saranno non saremo più ridicolizzati da coloro che forse ancora e ce ne sono anche nel popolo dei cristiani stanno ridendo di noi come a dire ma veramente ci credete io ne conosco ma veramente ci credete io ci voglio credere io voglio credere che il signore quando comincia un'opera la porterà per certo a compimento ma adesso voglio fare un salto un salto di qualità e con questo chiudo ma voglio ancora che 10 minuti di attenzione perché ora incomincia il proprio il cuore del messaggio abbiamo parlato di prima pioggia abbiamo parlato di abbondanza in questa città ma stiamo parlando di qualcosa di materiale stiamo parlando di ricchezze materiali e abbiamo parlato anche che il profeta e zecchiele profetizzò su quelle ossa e carne pelle tendini incominciarono a crescere su quelle ossa ma adesso voglio insieme a voi convincervi e convincermi che è necessario che in questa città ci sia l'ultima grande pioggia leggiamo insieme verso 28 dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri vecchi faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve gloria a dio quando il profeta gioele parlò di abbondanza da un punto di vista di mosto grano olio seppur stavamo parlando di qualcosa di spirituale lo abbiamo spiegato quella era la prima pioggia ma era un dio che stava operando a favore del suo popolo attraverso delle sue azioni esterne qui c'è un salto di qualità fratelli e la chiesa messina deve auspicare di arrivare a questi livelli qui c'è un salto di qualità non c'è più un dio che sta operando in questa città mandando da facendo azioni esterne ma c'è un dio che invece ha deciso di vivere dentro il suo popolo e questo quello che noi dobbiamo auspicare per questa città incominciamo noi i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno gloria a dio i vostri vecchi faranno sogni i vostri giovani avranno visioni io spanderò il mio spirito persino sui vostri servi e sulle vostre serve la parola in originale è sugli schiavi isaia 61 sto per concludere isaia 61 dice lo spirito del signore l'eterno è su di me perché l'eterno mi ha unto per regare buone novella gli umini mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto a proclamare la libertà a quell'incattività l'apertura del carcere ai prigionieri ecco ecco che negli ultimi tempi io spanderò dice joele il mio spirito anche sui serve sulle serve anche su coloro che sono in schiavitù anche sui prigionieri anche su coloro che magari neanche se l'aspettano perché l'eterno perché l'unzione dell'eterno è su di lui a proclamare l'anno di grazia dell'eterno il giorno di vendetta del nostro dio per consolare attenzione vi ricordate quando vi ho detto che la chiesa del signore doveva fare cordoglio ma qui il profeta esaia sta dicendo a consolare tutti quelli che fanno cordoglio alleluia e allora io vi dico che se non facciamo noi cordoglio non potremo essere consolati per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio insieme un diadema invece della cenere vuoi un diadema e allora è tempo di pentirti davanti al signore perché il signore sta per cambiare la tua identità spirituale l'olio della gioia invece del lutto ricordi quando abbiamo letto che mancava la gioia in quel paese no adesso la gioia viene ristabilita nella nostra città perché dio ha deciso così il manto della lode invece di uno spirito abbattuto affinché siamo chiamati querce di giustizia la piantagione dell'eterno perché egli sia glorificato alleluia una chiesa una chiesa che si sta adoperando affinché il signore mandi nella nostra città l'ultima grande pioggia è una città è una chiesa che ha capito esattamente cosa c'è bisogno in questa città abbiamo detto che prima viene il naturale e dopo viene lo spirituale e allora ezechiele profetizzò su quelle ossa e dopo che i tendini muscoli e la pelle si era riformata c'è una pausa se andate a ezechiele 37 e ezechiele era come se dice sì ma ora questo questo corpo che si è riformato è un corpo senza vita allora l'eterno dice soffia 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 perché lo spirito della vita un'altra volta si impossessi di questa città soffia popolo del signore soffia perché l'ultima grande pioggia è a disposizione per tutti coloro che la desiderano alziamoci in piedi molti in questa città si sono accontentati forse anche negli anni precedenti commettendo un errore grave si sono accontentati della prima pioggia si sono accontentati dell'abbondanza perché a noi ne piace quando abbiamo il portafoglio pieno ci piace quando le cose in casa nostra abbondano ma io ti dico che dieci lebrosi furono guariti ma nove non aspettarono l'ultima grande pioggia gli bastò la prima pioggia ma uno soltanto uno soltanto non guardò alla mano ma guardò il volto uno soltanto disse signore io non ho bisogno non ho bisogno di una guarigione io voglio il guaritore io non ho bisogno di un libera di una liberazione io ho bisogno di un liberatore io non ho bisogno di un qualcosa che duri poco la prima pioggia forse è per un tempo ma l'ultima pioggia l'ultima grande pioggia è per sempre e quando verrà l'ultima grande pioggia tu non soffrirai più penuria perché egli insieme al suo santo spirito e insieme al suo figlio ti darai insieme a lui ogni altra cosa alleluia alziamo le mani al signore gloria a gesù signore tu sei lì dio che sei l'onnipotente signore e noi signiamo vogliamo vogliamo essere quei folli che credono al messaggio e alla promessa della tua parola o signore noi vogliamo essere di coloro che credono senza se e senza ma come dei piccoli fanciulli vogliamo signora ascoltare la voce del padre del nostro papà e dirti sì signore tu lo farai lo farai ancora perché la tua mano non sia accorciata perché noi crediamo signore nell'incredibile perché abbiamo creduto in un dio che opera nell'impossibile signora a te nulla nulla signore è impossibile perché tu sei dio il padrone del cielo e della terra tutta la terra signore ti appartiene il mondo e i suoi abitanti in questo mondo signore c'è messina la città che noi amiamo signore ancora una volta questa sera la presentiamo davanti a te signore signore stiamo aspettando signore la prima pioggia e poi brameremo l'ultima grande pioggia signore rivela dai nostri cuori con potenza perché abbiamo bisogno di te grazie per ogni cosa signore benedici la tua chiesa messina benedici questa comunità benedici ogni video ogni cuore che ogni vita e ogni famiglia possa prosperare benedici il loro entrare il loro uscire te lo chiedo nel nome di Gesù amèn amèn dio vi stra benedica